Scatta Luca, scatta! E c'è un po' di calma, ha rifugito anche l'ultimo tentativo, rettilineo conclusivo frattopo con l'ultimo che è stato successo nel finale, ma altrimenti sarà volato, quindi doppia massima attenzione. Massima attenzione! Sì, scatta! Che ci vai! Cosa ci va? Quando è l'arrivo, e non c'è l'ultimo semi giro vigore? Ascolti, la r awakened la riva, lanciata la donata. Samuele Bosizio Samuele Bosizio alza le braccia al cielo i creditori del bel trato subito si aggiudica si aggiudica la corsa attenzione alle due rivi e a prezziare transita la maglia tua di Alessio Ferrari massima attenzione Samuele Bosizio ambulanze ambulanze